Il questore Emanuele Ricifari ha accolto due nuovi funzionari della Polizia di Stato assegnati alla Questura di Caltanissetta, nell'ambito degli avvicendamenti disposti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Arrivano nel capoluogo nisseno Lorena Latino, commissario capo, direttamente dalla Questura di Palermo, e Angelo Palermo, commissario capo, dal Compartimento Polizia Stradale di Genova. Lorena Latino, 32 anni, agrigentina, laureata in giurisprudenza e in Polizia dal 2018, ha prestato servizio all'Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico di Palermo, nella qualità di funzionario addetto. A Caltanissetta assume la responsabilità dello stesso ufficio, competente nel controllo del territorio. Angelo Palermo, 32 anni, nisseno, laureato in giurisprudenza e in Polizia dal 2019, ha prestato servizio alla sezione Polizia Stradale di Imperia. A Caltanissetta assume l'incarico di dirigente facente funzioni della Digos, ruolo svolto in precedenza dal vicequestore Sergio Garufi, trasferito alla Questura di Catania, con l'incarico di vice dirigente dello stesso ufficio etneo. Il questore Ricifari ha dato il benvenuto ai nuovi arrivati, augurando loro buon lavoro, e ha ringraziato Sergio Garufi per l'attività svolta nel periodo della sua permanenza in città, quale dirigente dell'Ufficio Immigrazione e della Digos.